Musica Buonasera dalla redazione della TG2000, un caloroso abbraccio di circa 7000 persone. Tanti erano questa mattina accolti dal Papa in aula Paolo VI, tutti provenienti dalle zone terremotate, insieme ai loro vescovi, parroci e sindaci. E Francesco non si è sottratto, anzi, senza fare sermoni, ha ascoltato le loro parole, invitandoli anzitutto a ricostruire i cuori, il tessuto sociale e umano, ancora prima delle case. Un discorso intenso, abbraccio, verso chi ha perso tutto, ma non la speranza. E allora, il racconto e le voci di chi ne ha preso parte, in diretta dal Vaticano, con Cristiana Caricato. Buonasera Cristiana. Sì, buonasera da Piazza San Pietro, ricostruire i cuori e la consegna di Papa Francesco ai circa 7000 terremotati del centro Italia arrivati oggi in Vaticano. Il pontefice ha accolto nella sua casa, nell'aula Paolo VI, chi una casa non ce l'ha più. E con il sisma ha perso spesso non solo i muri, i ricordi, la vita, ma purtroppo anche i propri cari. Un incontro commovente, intenso, segnato dalle testimonianze di chi è stato ferito nell'anima, dalle scosse, ma anche dalla partecipazione di Papa Francesco, che in un discorso abbraccio ha invitato a ricostruire, ad usare le mani, quelle che hanno smosso macerie e salvato vite, per guarire, per aiutare. Un Papa che non ha tenuto sermoni, come dicevi tu Fabio, ma che ha invitato a ritrovare il coraggio e la speranza. E allora seguiamo la cronaca di questa mattina nel servizio di Francesco Durante. Un abbraccio intenso, carico di passione, nella casa del Papa, tra Francesco e chi la casa ormai non ce l'ha più, così come in alcuni casi non ha più parenti, amici e conoscenti, portati via da quelle scosse di terremoto ad agosto e ad ottobre. Sono giunti in 7.000 dal centro Italia, in rappresentanza delle popolazioni devastate dal sisma. Francesco ascolta, attento e commosso, le testimonianze di Raffaele, da Amatrice, e di Don Luciano, parroco dell'abbazia di Sant'Eutizio, Arcidiocesi di Spoleto-Norcia. Riprende alcune delle loro parole che gli hanno toccato il cuore. La prima, ricostruire, è stata come un ritornello, dice. Ricostruire i cuori ancora prima delle case, ricostruire il tessuto sociale d'umano, la comunità ecclesiale, e se anche i cuori sono feriti, sottolinea, ci sorregge la speranza, che non è ottimismo, atteggiamento che serve un po' in un momento, ti porta avanti, ma non ha sostanza. Oggi, ribadisce, serve la speranza per ricostruire, e questo si fa con le mani. Per ricostruire ci vogliono il cuore e le mani, le nostre mani, le mani di tutti. Come le mani che hanno aiutato a liberare dai calcinacci, le mani dei vigili del fuoco, quelle di medici, infermieri e volontari. E ancora, il Papa cita un'altra parola che gli è rimasta impressa, ferite. Anche se ci si è salvati, qualcosa si è perso definitivamente, e la vita non sarà più la stessa di prima. Le ferite guariranno, ma le cicatrici rimarranno per tutta la vita. Ho voluto prendere le vostre parole per farle mie, perché nella vostra situazione, il peggio che si può fare, avverte, è fare un sermone. Infine, i suoi ringraziamenti a tutti per ciò che testimoniano con il loro esempio. Grazie per tutto quello che voi avete fatto, anche per ricostruire col vostro esempio l'egoismo che è nel nostro cuore che non abbiamo sofferto questo. E come abbiamo sentito, il Papa ha voluto usare proprio le parole scaturite dal cuore dei terremotati. Ha parlato di ferite, dolore, cicatrici, ma anche di speranza, coraggio, voglia di ricominciare e di ricostruire. Le stesse parole che hanno raccolto Vito De Torre e Nicola Ferrante, tra chi questa mattina ha affrontato un viaggio in pulma, ha lasciato i ricoveri temporanei per venire a Roma ad abbracciare il Papa. Io vi lascio quindi alla voce dei terremotati che hanno partecipato all'udienza di questa mattina, poi la linea può tornare allo studio. Le parole del Papa sono state molto significative, ci hanno ritoccato veramente il cuore, perché poi per noi siamo usciti dalle macerie, vivi, rispetto a... se considerate che in 30 secondi Amatrice c'è avuto 200 morti, noi stiamo qua, ci siamo rivisti in tanti, ma tanti amici non ci sono più. Mi ha alzato dal letto, mi ha tirato per aria, dormivo. Mi sono trovata nella porta, dal letto nella porta sbattuta. Eravamo in quattro dentro casa, non trovavamo la strada, siamo... è stata una cosa terribile. Non ce la faccio, scusate. Io sono di San Benedetto del Tronto e ospito nel mio albergo 200 terremotate tra cumuli e amatrice. È diventata una cittadina oraria, porta la felpa... Sì, mi hanno adottato, mi hanno adottato e ci siamo felicissimi, sono tutti insieme, infatti siamo 150 persone. Condivide le loro difficoltà. Condivide insieme, dalla mattina alla sera. Bisogna ricostruire partendo dai cuori innanzitutto, perché noi abbiamo bisogno di un aiuto psicologico, di un qualcuno che ci penda per mano e ci segue in questo cammino di rinascita, di ricrescita. Le istituzioni fanno molte promesse, però purtroppo non si muove più nulla, non si è mai mosso nulla. Noi siamo stati abbandonati. Ad Arquata del Tronto non si è mosso nulla. Abbiamo le macerie così come erano dal 24 agosto. Chiediamo aiuto a buon Dio tramite il Santo Padre che ci ascolti per ricrescere e per ripartire dai nostri cuori. Le parole di Sua Santità sicuramente ci danno coraggio e una forza interiore che spesso è venuta anche a mancare. Le ferite guariranno, ma non le cicatrici, perché comunque rimarrà dentro di noi un solco profondo che secondo me neanche il tempo potrà rimarginare. E l'altra faccia della festa di oggi ci arriva proprio dalle zone colpite dal sisma, sferzate dal freddo e dalla prima neve, giunta con questa nuova ondata di gelo che si prepara ad attraversare il nostro paese. Siamo tornati nelle zone colpite dal terremoto con Daniele Morini. Le previsioni avevano indicato l'allerta meteo e stamattina è arrivata la neve nelle zone terremotate di Lazio, Marche e Umbria. Le immagini dall'alto dei vigili del fuoco ci mostrano il centro di Amatrice più abbandonato e silenzioso del solito. La coltre bianca, per ora solo qualche centimetro, uniforma le macerie, pietre, mattoni, intonaci e travi diventano irriconoscibili. Il manto di neve smorza anche il rumore dei mezzi di vigili del fuoco ed esercito che continuano a operare per rimozioni, sgomberi e recuperi. Qui siamo a Visso, sempre più un paese fantasma. Se si escludono le forze dell'ordine, neve e gelo hanno allontanato gran parte dei residenti da tendopoli e campi. Tra chi resta tenacemente sul territorio ci sono gli allevatori che non vogliono abbandonare i loro animali e resistono nelle roulotte accanto alle stalle. Per questo la col diretti marchigiana invita la protezione civile a fare presto con l'allestimento di moduli abitativi per gli allevatori e di ricoveri per il bestiame. L'emergenza maltempo nelle zone terremotate è prevista almeno fino a domani per poi tornare, secondo le previsioni, da metà della prossima settimana. A Norcia, neve e gelo non hanno fermato i lavori di messa in sicurezza della Basilica di San Benedetto. Ormai la gabbia che sostiene la facciata è stata completata. Non c'è pace per la Turchia. Cinque giorni dalla tragedia di Capodanno, questo pomeriggio nuovo attentato. Due auto piene di tritolo sono esplose davanti al tribunale di Smirne. Quattro le vittime e diversi i feriti. Il presidente Erdogan non ha dubbi. La Turchia è sotto attacco da parte dei terroristi. Federico Plotti. A Smirne, terza città turca per numero di abitanti, affacciata sul mare Geo, è da poco passata l'ora di pranzo, quando di fronte al tribunale della città esplodono due autobomba. Subito dopo, tre terroristi tentano di assaltare il Palazzo di Giustizia con armi automatiche e bombe a mano. Poi lo scontrafuoco con alcuni agenti che presidiavano la zona. Due attentatori restano uccisi, mentre un terzo sarebbe riuscito a fuggire. Oltre ai terroristi, altre due persone hanno perso la vita, un civile e un poliziotto. Secondo il governatore di Smirne, i responsabili sarebbero i guerriglieri kurdi del PKK. Un altro attacco terroristico scuote la Turchia, a distanza di appena cinque giorni da quello di Istanbul nella notte di Capodanno e per cui la polizia ancora brancola nel buio. Il killer, un soldato del califato, come lo ha definito l'Isis rivendicando l'attentato, è ancora introvabile. Dopo aver ucciso 39 persone, ferite altre 70 all'interno del nightclub Reina, si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Decine le persone fermate in questi giorni e anche oggi sono tutte sospettate di avere legami con lo Stato islamico e soprattutto con l'attentatore. La maggior parte di loro apparterebbe alla comunità uiguri, minoranza turcofona di religione islamica che vive nella regione cinese dell'Oxinjan, la stessa zona da cui potrebbe provenire anche il killer di Istanbul. Aiutato da una rete dell'Isis ben radicata in Turchia ma anche da qualcun altro, secondo il vice primo ministro Numan Kurtulmus, servizi segreti stranieri potrebbero aver avuto un ruolo nella strage del Reina, alimentando così quella teoria del complotto che si è fatta strada nell'establishment del paese della Mezzaluna per coprire, sostiene qualcuno, la leggerezza e la superficialità dell'intelligence turca e le falle di un'indagine che ad Ankara finora sono costate più imbarazzi che altro. E poco fa sono arrivate anche le parole del presidente Erdogan. La Turchia è sotto l'attacco contemporaneo di diversi gruppi terroristici che vogliono metterla in ginocchio. Ci stanno provando, ha detto, ma non ci riusciranno. Su terrorismo e immigrazione interviene il premier Gentiloni, la radicalizzazione avviene soprattutto nelle carcere sul web. dobbiamo lavorare sulla prevenzione, ha detto. Intanto sulla ricollocazione dei migranti in altri paesi dell'Unione tuona la commissione diritti umani del Senato. È stato un sostanziale fallimento. Barbara Masulli. Prevenzione, prevenzione, prevenzione. E questa, secondo il premier Gentiloni, la strada da imboccare per combattere il terrorismo. Un lavoro di prevenzione che deve svilupparsi in due luoghi. Lavorare sulle carceri e lavorare sul web è uno dei compiti principali di questa attività di prevenzione alla quale gli esperti ci sollecitano. In Italia il numero dei foreign fighters è inferiore rispetto a quello degli altri paesi, ma non per questo bisogna abbassare la guardia. Da una parte, dunque, il governo assicura prevenzione, dall'altra si impegna in politiche che garantiscano accoglienza dei migranti e rigore nei rimpatri. Individuare questa minaccia non autorizza in alcun modo a fare equazioni improprie tra fenomeni migratori e minaccia terroristica e tuttavia sappiamo bene che la vigilanza deve essere massima per il rischio che queste minacce si ripropongono. Di immigrazione ha parlato il ministro dell'Interno. Minniti ha annunciato che nella conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio presenterà il suo piano riguardante i CIE. Attualmente i centri di espulsione e identificazione attivi in Italia sono quattro. Il capo del Viminale, invece, propone un CIE in ogni regione, strutture però diverse da quelle esistenti. Io proporrò che ci sia non soltanto una struttura di governance trasparente ma che ci sia un potere esterno per quanto riguarda le condizioni di vita dentro quei centri che sono appunto centri nelle quali bisogna sempre mantenere un livello molto alto di dignità della persona. Al confine tra Italia e Francia un giovane agricoltore soccorre con il suo pulmino i migranti in fuga tra le montagne. Ora è sotto processo. Ieri è la prima udienza che sta dividendo il paese. Come ci racconta Lucia Asciola. Davanti al tribunale di Nizza qualche centinaio di persone attende Cédric Eru, giovane agricoltore che a bordo del suo sgangherato furbuncino carica migranti convinti che i loro futuri in Europa. Avanti e dietro, lungo il confine tra Italia dove si accampano quelle anime inquiete provenienti da 20 mili e la Francia. Cédric, lo hanno accertato le autorità locali non prende un euro da quei viaggi non è un criminale, non cerca pubblicità anzi, il clamore è suscitato estraneo alla sua valle abbracciata dalle Alpi Marittime terra di uomini silenziosi e laboriosi ma non indifferenti ad altri destini. A ottobre, su segnalazione di alcuni connazionali è stato denunciato e in questi giorni processato spaccando l'opinione pubblica. Ci sono leggi che vanno rispettate dice chi si attende a una condanna esemplare loro, i migranti, devono farlo esattamente come noi se si aiuta chi vive nell'illegalità si commette reato e non si fa altro che generare altra illegalità tutto continuerebbe così non la pensa invece alla stessa maniera una signora esistono le leggi ed esistono gli uomini perché non guardare anche all'aspetto umanitario di tutto quello che Rufa è un difficile bilanciamento tra due questioni ma non credo che lui debba essere condannato. all'uscita dall'aula, laconico il commento di Cedric non è che mettendo me in prigione e punendomi il problema si risolva il problema non sono io, Cedric e Ruf sono gli uomini e le donne che incontro nella mia valle che soffrono e non hanno voce potete anche dirmi tornatene a casa Cedric, torna a lavorare smettila di aiutarli e di impicciarti con la politica ma io dico che la democrazia ci impone di uscire in strada di guardare alle persone che ci sono accanto anche quando non le conosceva Cedric rischia 5 anni di prigione e 30.000 euro di morte ma c'è da scommettere che a meno di un arresto continuerà con i suoi passaggi della speranza Ricorderete l'immagine di Aylan, il piccolo trovato senza vita su una spiaggia della Turchia in fuga dalla Siria Oggi un'immagine simile, ugualmente drammatica racconta al mondo la persecuzione in Birmania da parte dei militari della minoranza musulmana dei Rohingya un massacro sul quale si attendono ancora parole da parte del premier Nobel per la pace Aung San Suu Kyi Sentite Maurizio Lischino La drammatica foto di un bimbo morto nel tentativo di fuggire con la famiglia dal Myanmar sta richiamando con forza l'attenzione sulle condizioni della minoranza musulmana Rohingya che vive nel nord ovest del paese anticamente chiamato Birmania Altrettanto inquietanti le notizie del novembre scorso secondo le quali dei militari hanno picchiato uomini Rohingya durante dei rastrellamenti scatenati in seguito all'imboscata in cui sono stati uccisi quattro agenti La preoccupazione per la minoranza Rohingya circa un milione nel Myanmar è stata espressa di recente anche dall'alto commissariato ONU dei diritti umani Secondo la portavoce Ravina Sham Dasani all'ONU viene negato l'accesso nell'area Rohingya per verificare il perché delle fughe verso il confinante Bangladesh e soprattutto le denunce allarmanti di violazioni dei diritti umani tra cui omicidi, stupri e incendi di case Già ai tempi della dittatura militare si parlava di pulizia etnica della minoranza musulmana Dall'ottobre scorso questo spettro sta tornando con preoccupazione eppure il paese adesso è governato dal partito di Aung San Suu Kyi per decenni segregata dai militari Nobel per la pace nel 91 e attuale ministro degli esteri Altri Nobel per la pace, Amnesty International le hanno chiesto perché lei stia tacendo sulla condizione di Rohingya e perché è così arrendevole di fronte ai militari i quali continuano ad esercitare un forte potere in Myanmar San Suu Kyi ha chiesto tempo per un impegno serio per la soluzione di una questione complessa Il governo del Myanmar ha assicurato che saranno puniti gli agenti che hanno compiuto violenze sui Rohingya e ha sostenuto che le responsabilità siano di elementi esterni alludendo al vicino Bangladesh e ai fondamentalisti islamici preoccupato anche il capo della sezione terrorismo della polizia della Malesia Ayob Khan il quale ha affermato che c'è un'elevata possibilità che i musulmani dell'ISIS o di altri gruppi troveranno i modi e i mezzi per aiutare i loro fratelli musulmani in Rohingya Torniamo in Italia ad attenderlo all'aeroporto di Fiumicino ha trovato la polizia il 19enne di Siracusa ha arrestato stamattina nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Giuseppe Scarso l'ottantenne è aggredito e dato alle fiamme nella sua abitazione la notte del primo ottobre scorso a Siracusa il giovane di ritorno da New York aveva tentato la fuga negli Stati Uniti con l'aiuto della madre trovando riparo presso alcuni parenti un altro ragazzo di 18 anni coinvolto nell'omicidio è tuttora in carcere spostiamoci invece a Napoli dopo gli spari in pieno centro e con il ferimento di una bambina di 10 anni una vicenda ancora tutta da chiarire ma cosa sta accadendo? lo abbiamo chiesto allo scrittore giallista Maurizio De Giovanni che molte delle sue storie ha ambientato proprio a Napoli quali sono le impressioni sulla città e sugli ultimi eventi di violenza sentiamo una bambina di 10 anni viene ferita ad una gamba insieme ad altri tre extra comunitari durante una sparatoria avvenuta nel centro storico di Napoli una lite tra stranieri degenerata le prime ipotesi ma già dopo poche ore il quadro investigativo prende un'altra direzione la dichiarazione di guerra della camorra alla mafia africana azzarda qualche giornale dopo aver raccolto le voci di quei pochi napoletani ancora presenti nella zona della ferrovia Maurizio De Giovanni alla luce di quanto è accaduto ieri nella zona della stazione che sta succedendo a Napoli? un'altra pallottola vagante un altro innocente colpito ma non cambia la gravità perché se invece di colpire un innocente venissero uccisi personaggi anche di quel tipo di guerra di quel tipo di territorio mafioso non cambierebbe la gravità della sostanza il problema serio è il presidio del territorio c'è un territorio in questa città ci sono più territori in questa città che sono al di fuori del controllo delle autorità dello Stato qualcuno ipotizza la lotta della camorra la guerra della camorra la mafia africana la tua idea qual è? agli organi investigativi determinare chi ha sparato e perché per cercare di mettere fine a questo la coscienza sociale la coscienza civile di questa città deve invece prendere coscienza che è stato sparato uno o più colpi in pieno centro cittadino in un orario in cui la gente camminava per strada sta a noi prendere coscienza di non voler vivere in una città dove accadono episodi del genere e voltiamo decisamente pagina al via oggi i saldi invernali in tutta Italia con l'eccezione di Sicilia, Valle d'Aosta e Basilicata dove erano già stati avviati tra i consumatori è partita la caccia alle occasioni i nostri consigli per girare a largo dai falsi risparmi e dagli acquisti intelligenti anche online i consigli con Marco Bergamaschi al via in tutta Italia i saldi invernali con quasi 6 italiani su 10 pronti a fare acquisti il dato emerge da un'indagine di Confcommercio che registra una percentuale in aumento rispetto al 55% dello scorso anno ma inferiore a 5 anni fa quando si registrava quasi un 70% tra i prodotti più acquistati capi di abbigliamento, scarpe e accessori secondo la ricerca per i saldi il 78,1% dei consumatori stanziava un budget non superiore ai 200 euro in media gli italiani spenderanno 150 euro continuando comunque a dare importanza alla qualità dei prodotti spiega Confcommercio come prima della crisi in crescita del 7,2% chi approfitterà degli sconti online acquisti che però necessitano di particolare attenzione ad esempio scansando siti ingannevoli che magari propongono sconti eccessivi ed evitando truffe che spiegano le associazioni di consumatori sono in aumento bisogna stare molto molto attenti evitare ad esempio di pagare con le carte di credito e pagare invece con delle carte prepagate acquistare online può essere anche più vantaggioso ma sicuramente poi è più difficile contrastare eventuali danni della merce che non è quella che abbiamo acquistato che è fallata nonostante la concorrenza di presaldi e vendite scontate su internet crescono le aspettative nei saldi invernali dei commercianti al dettaglio e sale al 4,7% la percentuale di chi proporrà prodotti scontati di oltre la metà quasi 8 imprese su 10 sono favorevoli a una data unica per l'avvio dei saldi invernali a fine gennaio e quasi il 60% non si dichiara d'accordo con la liberalizzazione totale dei saldi solo due giorni fa è iniziata la nuova legislatura del parlamento statunitense prima dell'insediamento del presidente eletto Donald Trump e noi questa sera abbiamo voluto analizzare l'appartenenza religiosa dei rappresentanti del variegato popolo a stelle e strisce sentite Giorgio Schiavoni a fronte di una società che cambia velocemente la composizione religiosa del parlamento americano è sostanzialmente la stessa di 50 anni fa cioè con una schiacciante prevalenza di cristiani lo rivela un recente studio condotto in occasione dell'apertura della nuova legislatura l'altro ieri nel partito repubblicano oltre il 99% dei rappresentanti del popolo si dichiara cristiano due terzi sono pretestanti e circa un quarto è cattolico molto più variegata l'affiliazione dei parlamentari democratici protestanti e cattolici in sostanza si equivalgono oltre un decimo è di religione ebraica e nelle loro fila si annoverano anche buddisti, induisti e musulmani all'interno della rappresentanza parlamentare cristiana però anche per via della recente massiccia immigrazione dall'America Latina sono cambiati gli equilibri fra deputati e senatori cattolici e quelli protestanti questi ultimi infatti dal 1961 ad oggi sono nettamente calati a favore dei parlamentari che fanno riferimento a Santa Romana Chiesa degli oltre 500 nuovi parlamentari eletti a novembre in concomitanza delle presidenziali solo uno del Partito Democratico dichiara di non appartenere ad alcun gruppo religioso in forte contrasto con il fatto che quasi un quarto della popolazione americana non ha sentimenti religiosi e solo 10, tutti democratici hanno preferito non rivelare dettagli sulla propria spiritualità i cittadini americani agnostici atei sono i meno rappresentati nel Parlamento americano mentre gli ebrei con una consistenza numerica di solo il 2% sul totale della popolazione e il 6% tra senatori e deputati eletti nei due rami del congresso sono in proporzione i più sovra rappresentati il mondo della cultura è in lutto è morto a 84 anni il linguista Tullio De Mauro in passato ministro dell'istruzione della Repubblica una delle sue ultime interviste a Monica Mondo nel programma Soul che verrà riproposta subito dopo il telegiornale di questa sera e il Post Post che oggi è dedicato alle coppie in crisi c'è infatti un nuovo rifugio a Boves vicino Cuneo l'esperienza originale di frontiera di una coppia con tre figli che accoglie nei weekend famiglie in crisi che vogliono così superare le difficoltà e rimettersi in gioco per loro e per i loro figli noi torniamo alle 20.30 grazie per averci seguito arrivederci grazie per averci seguito